Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro con il tanke e questo è il nuovissimo video che faccio, questa volta è un mini vlog perché vi voglio parlare di una cosa, di un regalo che mi è stato fatto per il mio compleanno dai miei amici che riguarda il Natale, vi spiego bene si tratta di un calendario dell'avvento fatto con le birre, ok? e quindi ogni giorno si aprirà una casellina che rappresenta come sempre nei calendari dell'avvento i giorni di dicembre fino al 24 e troverò dentro una birra artigianale e in più ci sarà una spiegazione della birra tramite una scansione NFC disponibile attraverso un segno, un disegno sopra la cassa generale, sopra appunto tutto il calendario dell'avvento ma facciamo che ci vediamo direttamente lì così lo potete vedere voi stessi ed ecco di cosa parlavo signori miei eccolo qua, il nostro bestione il nostro calendario dell'avvento con il nostro foglietto illustrativo allora ve lo faccio vedere un secondo è bello grosso perché devo contenere 24 birre il primo è questo 1 di dicembre che apriremo oggi perché ho deciso che lo apriamo assieme signori miei perché cosa c'è di più bello di condividere qualcosa qualcosa che comunque ti piace, ti può dare un'emozione perché è stato un regalo molto molto gradito quello dei miei amici e adesso andiamo ad aprire la serie ma prima vi faccio vedere cosa intendevo per disegno da scanalizzare con l'NFC questo qua e infatti lo dice anche il foglietto illustrativo che devi utilizzare il tuo telefono per trovare le informazioni riguardanti la birra adesso apriamo il numero 1 è difficile oh 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 la vedete? qua ci sono le informazioni di tenerla a 10-12 gradi però adesso togliamo questa parte qui e apriamo perché è il momento di tirar fuori la prima delle nostre la birra è una smoky oak ale oak che ci ricorda minecraft ci dicono benvenuti ti stai per imbarcare nell'esperienza della birra natalizia il team di Savour Beer che in realtà è francese quindi non so leggerlo si augura, spera che ti divertirai durante il percorso loro dicono giustamente di condividerlo ed è quello che sto facendo anch'io questa è la birra di oggi una birra che non ho mai visto quindi è già una cosa positiva la metterò in frigo perché la berrò stasera adesso vi darò qualche informazione flash su questa birra e poi dopo concluderemo la puntata perché avevo pensato di portarveli tutti i giorni porca miseria si urlano questi però ho detto meglio di no perché poi dopo magari diventa pesante la cosa quindi magari farò un altro video riguardante questa cosa dove riporto un po' il birra e un po' la mia esperienza ma per adesso vi dico che sono contento e mi è piaciuta ci dicono che la gradazione è 6 gradi che come potete vedere c'è una distinzione tra dolcezza, aroma ci dice che sa un po' di whisky, un po' di banana ad ogni modo è una birra molto particolare io vi dico però ragazzi che per questo mini vlog è tutto perché volevo solo farvi vedere un pochino questo gigante buono che mi porterà all'alcolismo ma così vi ringrazio tanto per la visione vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto fatemi sapere cosa ne pensate di questo regalone che mi hanno fatto i miei amici e io vi auguro intanto una buona continuazione ciao ciao belli ciao 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 Grazie a tutti.